Si è appena concluso il meeting internazionale Microbiota.me 2018 organizzato a Milano Bicocca da me e da altri colleghi del network europeo. Diciamo che questa prima edizione di Microbiota.me ha voluto essere multidisciplinare, quindi abbiamo cercato di presentare tutti i vari aspetti del microbiota, dalla salute all'aspetto ecologico evoluzionistico, all'aspetto più legato al food e quindi alla nutrizione. Volutamente quindi ci siamo mantenuti un pochino trasversali a tutte queste tematiche. Devo dire che questo ha avuto successo, è stato apprezzato il fatto che si sono sentiti molti approcci differenti, magari alle stesse problematiche, quindi spaziando un pochino dalla medicinal chemistry alla farmacologia, alla biologia, alla biofisica, alla medicina, eccetera. Dal punto di vista del filo conduttore abbiamo voluto concentrarci sull'aspetto molecolare, nel senso che nel campo del microbiota ci si sta un pochino evolvendo da un approccio puramente analitico dei famosi omics, quindi proteomica, metabolomica, interattomica, a invece cercare di comprendere i meccanismi molecolari attraverso i quali il microbiota comunica con il resto dell'organismo, quindi in particolare nell'asse intestino-cervello quali sono i mediatori chimici, quali pathway di segnali vengono attivati, eccetera. Questo è stato un pochino il leitmotiv di tutto il congresso. L'altro punto importante di questo congresso era il fatto di mettere in comunicazione dei grandi, dei scienziati a livelli molto alti dal punto di vista internazionale con dei giovani ricercatori, per cui abbiamo privilegiato il fatto di presentare delle plenary lecture da parte di questi scienziati molto quotati e insieme a queste plenary lecture delle presentazioni orali, delle flash communication fatte da giovani, giovani ricercatori esordienti o quasi nel campo del microbiota. Grazie. Grazie. Grazie a tutti